Fabri come stai? Bene, tutto a posto? Ok. Io tutto a posto, sì. Sono dieci anni che ci conosciamo, eh? Ci siamo, eh? Infatti mi è venuta la barba bianca, guarda. Hai visto? Hai visto? Per osmosi. Allora, vi spiego velocemente dal mio punto di vista, poi si racconterà anche lui. Fabrizio è stato colui che mi ha spiegato come funziona il discorso del costuming, delle legioni e via dicendo. Quando dieci anni fa sono partito in un'avventura assurda ai tempi, cioè era quella di realizzarmi un costume movie accurate, parola fondamentale per questa puntata, di Darth Vader, la versione di A New Hope. Già, versione? In che senso versione? Poi ve lo spiegherà Fabrizio. Mi sono imbattuto in un forum che era abbastanza rinomato in Italia a quei tempi, che era Spaghetti Prop. Fabrizio era uno dei fondatori di Spaghetti Prop e mi ha raccontato un po', mi ha spiegato, mi ha inserito in questo mondo e io completamente a bocca aperta, seguendo le sue indicazioni passo passo, sono riuscito a realizzarmi un costume durante diverse settimane, direi tre mesi di ricerche, eccetera, eccetera, il più accurato possibile. Fabrizio, spiegaci intanto velocemente chi sei, giusto due parole per raccontarci cosa fai e perché sei qui e soprattutto spiegaci questo discorso del movie accurate. Parliamo logicamente di Star Wars, del mondo di Star Wars, lo do per scontato ma è giusto specificarlo. Vai! Allora, intanto mi presento, sono Fabrizio Falà, 41 anni, ingegnere in telecomunicazioni e come passione ho quella dei costumi di Star Wars, ma non costumi nel senso fatti a livello di, come in cosplayer, ma proprio costumi ricercati nei minimi dettagli. Quindi, e qui è proprio per rispondere a te Robby del discorso del movie accurate, minimi dettagli significa che ogni singolo micro dettaglio che nel costume del film era presente, nel mio costume deve essere presente. Quindi, dallo sfricio che nessuno vede, alla ditata sulla vernice che nessuno sa, alla cucitura fatta male che sta dentro ma nessuno lo sa, e io invece ce la voglio. Quindi questo è essere veramente un fanatico del movie accurate. E tra l'altro, secondo me, la soddisfazione è veramente immensa, proprio perché sono cose che non si vedono manco nel film, cioè nel film non le vediamo queste cose qua, no? Io ho in mente, non so se nelle foto che hai mai dato tu c'è... Guarda, guarda, dimmi tu quale foto vuoi sapere. Vogliamo partire dalla numero uno? Partiamo dalla numero uno, beh sì, direi di partire dalla numero uno, aspetta un attimo che adesso non so se c'è la numero uno, sì c'è, perfetto, molto bene, vai. Allora, quello che stiamo vedendo in questo momento è un'immagine del casco di Vader nella versione A New Hope, specificatamente l'immagine nel momento in cui Vader si rivolge alla principessa Leila all'inizio. E se vedete sullo zigomo nero c'è un piccolo sfricio, diciamo, una piccola cicatrice, possiamo chiamarla così. Allora, ti fermo un attimo Fabrizio per far notare anche una cosa che per noi è scontata. Nella foto in alto, se ci fate caso, la maschera di Vader, e questa è una delle tante cose che mi ha insegnato Fabrizio dieci anni fa, come vedete è un po' arlecchino. Cioè, la guancia destra è gunmetal, mentre la guancia sinistra e il naso è nero. Stessa cosa, invertito, il fronte della guancia destra è nero, il fronte della guancia sinistra è argento. Questo era un discorso, era un modo di renderlo più tridimensionale, più volumetrico con la fotografia, ma nella finzione la maschera sarebbe nera. È corretto quello che dico? Sì, in pratica la storia narra che il casco doveva essere tutto quanto verniciato di nero, e nel momento in cui sono andati a fare le prime riprese, le prime prove di luci e tutto quanto, si sono resi conto, in studio di ripresa, che la faccia di Vader, con tutti i dettagli che noi oggi vediamo, non si vedevano, in quanto era praticamente un blocco nero e sulla pellicola, che scurriva ancora di più, non si vedeva niente. Allora, per risolvere, questa è una di quelle leggende, storie che non tutti sanno, per risolvere questa problematica a livello di effetto luci, andarono proprio sul set a dipingere a pennello brutalmente, quindi proprio pennellate così date alla cavolo, con questo gunmetal, questo grigio metallizzato, le parti, diciamo, che erano un po' più a vista, diciamo, ecco, e quindi dando poi questo schema asimmetrico di verniciatura, in modo tale che chi guardava il film sembrava, cioè, pensava che quello che vedeva erano riflessi della luce, invece era solamente il fatto che era stato dipinto appositamente di due colori differenti, tanto che, ti dirò anche di più, e qui entriamo nella parte quella che... Hardcore, proprio quella parte... Esatto, quella che, non tutti sa, quelle storie che... Vai, vai! Ma come fai a saperlo? Eh, lo so perché, perché lo so. Eh sì, mantieni sicuro. Esatto, allora, quale gunmetal è stato usato per fare questa colorazione? Allora, agli studios, a fianco, c'era la carrozzeria della Jaguar, e praticamente sono andati direttamente in carrozzeria e quindi il corretto colore è un colore di una Jaguar degli anni 70, un gunmetal che usavano per quella, diciamo, per quelle macchine dell'epoca, quindi chi volesse, diciamo, farlo del colore giusto deve andare a trovare il modello della macchina, vedere la colorazione e da lì asce fuori l'esatto gunmetal che serviva per fare questa colorazione particolare. Tra l'altro, vorrei... Entriamo nelle storie quelle per cui oggi sono qui. Esattamente, è esattamente il motivo per cui ti ho invitato. Tra l'altro, vorrei invitarvi a tutti voi a guardare bene lo schifo, la poca definizione che aveva la maschera di Vader. Cioè, immaginate che nel 77 Star Wars, mentre lo giravano, rischiava di essere uno dei più grossi flop della storia, ha mandato in crisi George Lucas, non ci credeva nessuno, nemmeno lui. Per cui, tutta la parte preproduzione è stata fatta alla buona. Se cominciate a guardare i caschi, dopo li vedremo con Fabrizio, dell'Impero Glopisciancore e del Ritorno dello Jedi, sono tutt'altra cosa, sono lucidi, sono belli visivamente, sono degli oggetti belli. Questo qui, se voi guardate, poi adesso da quando sono usciti i Blu-ray, la definizione è ancora più alta, col 4K ancora di più, vedete chiaramente le pennellate, le sbeccature, le rovinature, tutto quello che non funziona, ed è proprio quello che i fanatici, nel senso buono come Fabrizio, vogliono replicare nella propria copia. Beh, diciamo che, vedendo queste foto, che ovviamente con il discorso del Blu-ray sono uscite ancora più dettagliate, è uscito fuori anche, diciamo, un'altra situazione, cioè di persone che, lavorando magari all'epoca per quegli studios, magari si sono riportati a casa una copia del casco che magari avevano fatto per sbaglio, giusto per pulire lo stampo, oppure era uscito male perché c'era una piccola bolla, l'avevano buttata nell'immondizio, per esempio. Ma all'epoca il problema, sai qual era? È che nel 1977 o 76, quando comunque stavano lavorando al film, come tu hai detto, cioè non è che uno poteva sapere cosa sarebbe diventato poi in futuro. Cioè nessuno si poteva mai immaginare che se buttavi una cosa del genere qualcuno la prendeva e la riportava a casa e la dava al figlio. Tieni piccolino, giocaci, guarda che ti ho riportato e questo magari ci giocava, ci metteva con i pennelli sopra, con i colori a cera, poi magari la metteva nella soffitta e poi un giorno scopriva che, ma porca miseria, ma mio zio mi regalò quel casco che era uscito dagli studios, ma era sbagliato, ecco magari queste persone adesso si ritrovano in patrimonio e magari queste persone che si ritrovano in questo patrimonio magari hanno deciso di invece di venderselo, di fare una serie di copie e di venderle ad altri poveri fanatici, poveri tra virgolette perché poi magari le pagano pure una follia, che amano avere delle repliche il più perfette, anche se non si può dire, possibile e non c'è cosa migliore di avere una copia diretta del vero casco o del vero pezzo dell'armatura o dell'oggetto che veramente è stato usato in scena. Questo perché? Perché proprio per tutti questi dettagli, sbeccature, graffi o qualunque tipo di problematica che all'epoca era uscita per sbaglio, magari era cascato per terra, ma però hanno diciamo creato la perfezione, tra virgolette, del casco di Vader a New Hope, perché era fatto brutto e male. Tra l'altro, se non ricordo male, non ricordo male, lo so per certo, ma chiedo conferma a te perché sei sempre super informatissimo, anche gli Stormtrooper avevano questo genere di difetto. Se non ricordo male, avevano una sorta di impronta nel bracciale destro-sinistro, non ricordo bene, dovuto a un errore di termoformatura nel togliere il pezzo di plastica, nel sistemare lo stampo ed era stato fatto una ditata e adesso alcune repliche hanno questa ditata sotto l'avambraccio, giusto? Ah, ma guarda, sì, sì, di tutto e di più, anche perché se poi uno guarda attentamente i film, o i film, si rende conto che, per esempio, anche in A New Hope, appena compaiono per la prima volta gli Stormtrooper, chi perde un pezzo, chi gli si apre l'armatura, chi sbatte la testa, chi gli si rompe tutto, cioè uno magari vede il film e non se ne rende conto, però se lo riguarda adesso più attentamente e magari si sofferma a guardare magari le ginocchia o le caviglio che vede pezzi che si aprono, si chiudono, che sono stati magari all'epoca montati alla meno peggio, anche perché era uno dei primi film dove venivano usati dei tipi di armature così, tra virgolette, complessi per l'epoca e con agganci particolarmente difficili da tenere chiusi. Ricordo bene il nastro americano che teneva su le due parti dell'armatura, il frontale, il petto e la schiena, si vede proprio, soprattutto nelle versioni recenti, con la definizione molto più alta, si vede proprio benissimo il nastro americano. Nella scena in cui vanno a prendere Leila quando gli spara dentro il corridoio dove appena dato i piani della morte nera a R2-D2, in quella scena si vede benissimo proprio tutte le armature scarrozzate, via dicendo. Ma il bello di oggi è che chi vuole fare un'armatura veramente movie accurate deve ritrovare esattamente quel nastro americano con quella trammatura e con quel colore e con quello spessore. Ma lo si trova? Cioè, parliamo di questo perché... Alcune cose ancora si trovano, alcune cose ancora si trovano, però certe, effettivamente altre, cioè, determinati tipi di pezzi o oggetti che sono stati usati magari chi ce l'ha adesso ha scoperto che sono pezzi usati nei film di Star Wars e quindi magari prima un rubinetto te lo vendevano a 10 euro perché avevano sfasciato una casa e tipo, ho trovato dei rubinetti e oggi magari si scopre che quel particolare pomello è stato usato per fare la spada di Obi-Wan nel 77. E quindi, se vuoi quel pomello lì, lo paghi. Ma è l'originale però, non le repliche, devono essere proprio pomelli. No, 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 io ti parlo dell'originale nel senso di quel pomello creato da quella ditta per quella linea nel 77. Quindi oggi devi ritrovare quel pomello lì, è chiaro, non l'originale, no, l'originale, originale stiamo parlando di cifre che non sono alla portata di noi umani. Però nel senso, un pomello della stessa marca, uguale, lo stesso tipo, lo stesso modello prodotto nell'epoca, oggi magari, chissà che ce l'ha e che era un pezzo di Star Wars e lo mette nel mercato delle persone che vogliono comprare questa roba, probabilmente lo vende a 3, 4, 5, 600 euro. Dipende. Sì, incredibile. Ascoltami, a me mi è rimasto impresso di tutte queste storie che mi hai raccontato, quello del passacavo. Adesso non so se c'è la foto in quelle che mi hai dato tu. Guarda, io ho... Ce l'hai lì? No, non ci posso credere. Raccontaci questa cosa del passacavo. Ma dentro ci sono anche i pirulini? Allora, allora, aspetta, vediamo se ti dico qual è la foto che se apri la 33. La 33, adesso arriva Antonio che la apre subito. Arriva, arriva. Ok, va bene, comunque, premessa. Questa foto che adesso Antonio dalla regia ci mostrerà, nella foto c'è il ritratto. Sì, sì. Ok, eccola qua. Ok, se magari gliela fai ingrandire un pochetto. Vabbè, comunque, dicevamo, questo pezzo che vedete in fotografia è il chest box. Vai dall'altro lato, da quello dell'altro lato che è esattamente quello che ho in mano. Ecco qua. Che è questo. Ok. Robby, tu ti dici, vieni da ridere per la follia. No, ma vieni da ridere perché tu una volta mi hai mandato una foto che sembrava fatta con una macchina dei raggi infrarossi per farmi vedere quei pirulini che si vedono, che sono proprio quei pistoncini che tengono il cavo. Non so se lo fai a vederlo dalla camera qui. Allora, praticamente. Ok, allora, tornando alla fotografia, nella foto è ritratto il chest box che ha Darth Vader sul petto. Diciamo, sarebbe il suo, tra virgolette, cuore pulsante che lo mantiene in vita. Mettiamola così, dai. Sì. E fisicamente, come è stato realizzato? Questa, diciamo, tavoletta è una base di vetro resina alta a due centimetri e mezzo dove sopra sono stati messi dei pezzi tra virgolette a caso e questi pezzi che sono stati messi non è che sono stati creati in 3D perché ricordiamoci che nell'80 o 77 o 83 che sia insomma in quegli anni lì non è che c'era la disponibilità di stampanti 3D o di costruire cose così facilmente come si può fare oggi. quindi che cosa facevano le persone che lavoravano in quel settore? Prendevano non so dei vari mangianastri giradischi tutte queste cose queste diciamo attrezzature analogiche dell'epoca le smembravano completamente e andavano a recuperare tutti i vari micro pezzetti che erano all'interno di questi diciamo dispositivi per poi ridargli nuova vita come pezzi di costumi quindi se andiamo a vedere questo diciamo questa parte del costume di Werner Nicia ehi ehi scusa che ho il gatto pure che mi combina i casini scusa vabbè sono gli imprevisti della diretta allora dicevamo quindi davano usavano questi pezzi per dare nuova vita e usarli per diciamo creare questi queste parti di costumi nello specifico questo questo pezzetto qui era un semplicissimo fermacavi se vedete il cavo andava all'interno questo era il perno e questo praticamente era il fermacavi che si diciamo bloccava così e il cavo passava dentro che hanno usato come parte superiore di un alberino che ancora non è stato praticamente ritrovato cioè non abbiamo ancora scoperto effettivamente quale sia l'esatto pezzo ma si presuppone essere una sorta di alberino usato in qualche stampante dove magari andavano attaccati gli ingranaggi e questo alberino girava per far girare delle bobbine o robe varie quindi questo è uno dei tanti misteri non ancora risolti no Robby purtroppo no ancora questo alberino non è stato risolto questo qui ancora rimane nella scatola delle cose misteriose però in compenso abbiamo un po' trovato tutti altri pezzi come le diciamo tre fessure luminose sono semplicemente dei semplici coin slots che sarebbero delle gettoniere dove venivano messi le monete per le slot machine dove hanno praticamente messo un vetrino colorato sopra e messo una luce dietro e poi questi qui si illuminavano secondo una sequenza che tra l'altro in Impero Colpisci Ancora è differente nel ritorno delle oggetti però queste sono quelle cose che questa versione qui questa versione qui questa è Impero Colpisci Ancora Impero Colpisci Ancora ok esatto i due pulsanti questa scusa mi ti interrompo un attimo Fabrizio questa è una cosa che ho anticipato all'inizio però in realtà di Vader ce ne sono moltissimi e non ce n'è manco uno per film ma ce ne sono più modelli per film tanto che nell'Impero Colpisci Ancora correggimi sempre se sbaglio mi raccomando ci sono alcune scene in cui il costume non lo indossa Dave Prowse ma lo indossa il maestro d'armi soprattutto nella scena di combattimento sul ponte quando poi Luke perde una mano e infatti se guardate attentamente la scena vi accorgerete che chi indossa il costume è decisamente più esile e c'è un particolare molto interessante che è la maschera di Vader che ha queste parti qua che sono trasparenti perché lui doveva avere esatto hai una foto la numero come no o la 26 o la 27 o la 28 esatto la 26 è quella proprio della scena è quella della scena esatto perché lui doveva avere un'agilità maggiore di quella che aveva Dave Prowse per il combattimento per cui aveva bisogno di più visibilità e gli hanno messo questi vetrini si vede anche nel film ma logicamente la magia del cinema ci impedisce di notarlo a meno che non scavate come Fabrizio poi ha fatto è questa qui allora esattamente questo è il casco proprio quello originale usato da Bob Anderson che era diciamo il maestro d'armi o lo stuntman che sia che faceva solamente le parti di combattimenti e se fate caso proprio sugli zigomi erano state aperte delle fessure e inseriti dei vetrini oscurati dove lui riusciva a guardare non solo dagli occhi ma anche dagli zigomi e oltre a questo tutta la parte del collo sotto era fatto in black glass scuro quindi lui anche sotto dal collo poteva vedere ah si vede cavolo questo non lo sapevo sì sì quella era era fatto tutto praticamente era stato aperto il collo senti io per far vedere per far capire meglio mi sono mi avvalgo di un dispositivo avvaliti avvaliti ecco di un dispositivo quindi diciamo tutta questa parte qui del collo era stata aperta e levata la parte in vetroresina e messa una parte in plexica in modo tale che lui riusciva a vedere i zigomi erano stati aperti e ovviamente anche gli occhi erano aperti e quindi lui riusciva a muoversi più agilmente e anche a vedere quello che succedeva perché come Robby sa in quanto possessore i costume di Vader è anche un solo possessore ma l'ha anche indossato più e più volte chi mette il costume di Vader specialmente chi indossa il casco di Vader da qui in giù non vede niente quindi rischi di andare addosso a bambini persone non vedere scalini succede di tutto quindi avere la visuale sotto era fondamentale per per lo stuntman che doveva comunque combattere magari fare passi o muoversi all'interno del set era molto complicato sì decisamente questa è una delle cose che mi ha sempre affascinato di più l'altra cosa ma guarda se ti interrompo ti dirò non solo nelle scene di dove veniva indossato da Bob Anderson dove combatteva ma ti dico anche alcune scene di primi piani pieni come la scena finale del ritorno dello Jedi quando Palpatine sta per uccidere Luke che si vede che ogni tanto staccano sul casco di Vader che lì è indeciso che guarda destra e sinistra quella parte lì il casco è un casco stuntman e si vede proprio benissimo che ha queste aperture nonostante fosse una scena in primo piano non ci ho mai fatto caso cioè è passesso sta cosa qui adesso dopo l'ho fatto rivedere questo non ci ho mai fatto caso poi guarda ci hai fatto caso se chiedi alla penso al 90% quando delle persone ti dicono che il casco di Vader è nero figurati se fai caso alle aperture sì no ma infatti è questo che mi affascinava di questo mondo vedere che al di là del film non ci sono solo gli attori la vita privata degli attori e quello che si sono detti ma c'è proprio una struttura impressionante dietro la realizzazione dei costumi sia per quello che riguarda il budget sia per quello che riguarda l'inventarsi un po' le cose giusto per passare un attimo da Vader perché so che una delle tue specializzazioni in realtà è Vader tu ti sei specializzato proprio nello studio di alcuni pezzi ma anche di Boba Fett se non ricordo male di Vader qualcosina mi hai sempre raccontato perché è un po' il costume che mi facevo ma di Boba Fett io so veramente poco soprattutto se parliamo di questi misteri raccontami un po' anche di Boba Fett eccolo qua ma questi caschi che ci stai facendo vedere sono repliche normali o sono allora questo che ho in mano in questo momento è il come si chiama quello che è uscito adesso che costa pochissimo però è bellissimo Asbro l'Asbro esattamente che per il prezzo a cui lo vendono è una ottima replica è di plastica però insomma c'ha tutti anche gli interni fatti come dovrebbero essere fatti cioè nel senso non come erano nel film ma come si credeva dovessero essere fatti e la verniciatura diciamo è discretamente fatta bene per 100 euro vale la spesa se sei uno che ha voglia di tenere una diciamo replica abbastanza fedele e no dicevamo mi dicevi di Boba Fett vogliamo parlare di anche delle cose strane di Boba Fett Boba Fett Django Fett so che sono due allora sì sì possiamo incominciare con Boba Fett visto che vogliamo visto che stavamo parlando del casco se vai sulla foto numero 4 vai Anto eccola qua ok sì allora all'interno del casco di Boba Fett nella foto numero 4 e lo vediamo anche qui vabbè io con questo però qui questi ritagli non ci sono praticamente nella parte dietro dove c'è questa tra virgolette presa d'aria all'interno all'interno di questa presa d'aria cosa difficilissima da vedere lo sai solamente se eh se è stato di fronte o dietro il vero costume di Boba Fett perché dalla dal film non potrai mai vedere questa cosa all'interno di questa fessura c'è un circuito è un circuito di una calcolatrice se vedete se Anto ingrandisce si vedono dietro tipo dei piedini che era ok sì 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 ok ok sotto scendendo si vedono due pirulini rossi a me sta cosa mi fa un ridere incredibile allora io so cosa sono queste cose ma vabbè come anche altre persone non è che mi voglio prendere diciamo il merito di tutto assolutamente eh allora il circuito che vedete dietro era di una calcolatrice Casio che loro hanno usato che dovremmo avere anche nella foto numero 5 c'è il circuito con la fessura al fianco eccola allora quella è diciamo la stessa parte del casco e quello è il circuito che sta dietro e se vai alla foto numero 6 vediamo qual è la calcolatrice che hanno usato non so se si vede eccola qui questa calcolatrice qui che cosa hanno fatto come ho già detto prima loro prendevano questi pezzi li smembravano e cercavano di utilizzare il più possibile per fare parte del costume Fabri ti chiedo una cosa scusami ti fermo un attimo tra l'altro se non ricordo male Boba Fett non è stato fatto per l'impero colpisce ancora per cui questo costume è stato comunque fatto insieme ai costumi del primo film perché nell'edizione speciale vediamo Boba Fett per la prima volta corretto questo? allora Boba Fett inizialmente era tutto bianco ed era praticamente una sorta di Super Trooper versione mai uscita nel film e poi è stato riutilizzato nella prima e poi da quella versione lì sono state fatte altre diciamo due o tre preproduzioni di versioni quindi colori differenti alcuni pezzi differenti che però non sono state mai utilizzate per i film dopodiché siamo arrivati alla versione diciamo quella per l'impero colpisce ancora che tendenzialmente il costume anche il casco e anche il jetpack erano tutte cose tutti un po' più verdi questo che stiamo vedendo in questa foto qui adesso è la versione ritorno dello jet infatti se vediamo possono utilizzare questo qui questo casco qui che è in versione invece in peracolpisce ancora vedete qui il colore è differente diciamo tutta la parte del weathering è fatta in un'altra maniera e hanno fatto due versioni perché così gli andava bene così però fondamentalmente diciamo si parla solamente di verniciatura perché poi per quanto riguarda diciamo la maggior parte dei pezzi venivano utilizzati lo stesso gli stessi pezzi comunque tornando al discorso lì della calcolatrice come dicevo loro utilizzavano tutto quello che potevano per cercare di creare il più possibile per i costumi e da questa calcolatrice non solo hanno preso il circuito interno da inserire all'interno del casco ma hanno preso anche la pulsantiera quella dove praticamente vengono usati tutti quanti i numeri che l'hanno usata praticamente come pulsantiera per il bracciale che aveva Boba Fett quando lui fa vedere nel film che spinge qui per usare il lanciafiamme e lanciare i missili fondamentalmente effettivamente c'è quella pulsantiera c'è una foto sì l'ho vista l'otto dove si vedono si vede esatto qua ed era questa qui la pulsantiera spettacolo quindi la bellezza per noi smanettoni è avere tutti questi pezzi questo Fabri è un livello nerd cioè allucinante ti rendi conto che hai capito questo non so se è un no no è un cazzo di pregio non so se è un'offesa è un complimento ma come no è un complimento lo scavalare è lì impossibile per cui insomma il viaggio continuo alcuni pezzi ancora non vi tornerono io credevo che ormai sapeste tutto invece siete ancora lì a cercare di capire che cazzo sotto ma che spettacolo non finirà mai sta cosa guarda che ogni tanto ogni tanto esce fuori qualche nuovo dettaglio perché vuoi o non vuoi ti capita di vedere qualcosa e ricollegarlo perché poi fondamentalmente le persone tipo me che si ritrovano con questo tipo di passione poi quando vanno magari in giro per i negozi per i mercatini o per robe varie cioè non è che se ti trovi di fronte a un oggetto non è che tu focalizzi quell'oggetto per quello che è ma tu lo focalizzi per vedere ma magari è stato usato per fare qualcosa ci potrebbe essere un pezzo dentro che poteva essere stato usato in qualche film si potrebbe usare per fare qualcosa quindi praticamente ti si instaura questa sorta di meccanismo mentale che non sei più in grado di vedere che ne so un mangianastri per un mangianastri no tu vedi un mangianastri come un insieme di pezzi che probabilmente qualcuno avrebbe potuto usare per fare i costumi quindi magari se sei fortunato se sei fortunato non vuoi prima o poi qualcosa trovi anche per caso a proposito se non sbaglio tu sei stato sei anche l'autore il realizzatore di alcuni pezzi del Vader che si può vedere al Madame Tussauds mi sbaglio? di tre Vader cioè di tre Vader di cui due dovrebbero stare a Londra e uno in Germania penso a Berlino dovrebbe essere per cui ecco questo era un po' volevo fare volevo fare un po' capire che Fabrizio non è proprio degli ultimi arrivati è uno che nell'ambiente è conosciuto proprio per la sua determinazione nello scovare il dettaglio di questi dettagli ce n'è un altro vado un po' avanti perché vedo che il tempo sta correndo ce n'è un altro che mi ha sempre fatto morire che io adoro alla follia ed è sono i sei pannelli di comando di Ansolo in carbonite io impastisco letteralmente perché quando ho scoperto sta cosa anche per colpa tua ho cominciato a cercare negli sfasci a carrozze dove andavo andavo anche in Ungheria sono stato a chiedere quel modello di macchina lì raccontaci un po' questa cosa perché per me è una delle cose più belle di questo mondo allora anni in carbonite praticamente come si vedono nel film ci sono diciamo otto pannelli quattro da un lato e quattro da un altro dove ci sono vari display lucette pulsanti robe varie chiunque chiunque fino a diciamo cinque sei sette anni fa voleva replicare il diciamo questo prop si trovava di fronte al dilemma di che cosa saranno questi pannelli e quindi fondamentalmente per avere una replica il più possibile fedele o movie accurate andavano a realizzarli fisicamente a mano fino a che un bel giorno qualcuno non mi chiedere come ha fatto da dove ho riuscito a farlo che ha scoperto cosa erano questi pannelli che veramente quando uno quando uno vede uno dice ma come hai fatto come come o qualcuno ti ha aiutato ti è venuto in sogno qualcuno allora questi pannelli sono nient'altro che un cruscotto di una Volvo della 75 di cui del 76 ecco esattamente questo sai perché sai perché mi fa ridere questo cruscotto preso la Volvo della mia insediante di musica girato è esattamente quel pezzo quindi questo è ecco esattamente questo questo è il cruscotto che se noi se lo giri fisicamente si poi vabbè dopo lo adorni con tutti i pezzettini di cui parlavi esattamente come ho detto prima come veniva fatto all'epoca adornato di vari pezzi che magari poi puoi ritrovare in altri costumi non è che ho pezzetti pezzi di tubo pannellini grigliette prese da qualche mangianastri quindi e loro ecco così ricreavano i pezzi il bello è quando scopri quello che cos'è questo pezzo e dici cazzo roma l'ho riuscito a trovare sta cosa ed è questa immagina la gioia di quella persona che magari stava dallo sfascia carrozza e guardava montagne di immondizia e gli è uscito fuori questo pezzo del cruscotto ha detto ma cazzo ma questo è esattamente quel pezzo lì mi immagino e poi e poi dopo nel momento in cui è stata emessa data la notizia penso che i sfascia carrozza che avevano le macchine Volvo avranno ricevuto miliardi di telefonate sì mi immagino i rivenditori di questo pezzo che da un sì tra l'altro hanno ricevuto ordine ovunque tra l'altro in quel periodo avevo trovato a 80 euro il cruscotto completo ma non so perché non l'ho mai preso vabbè sarà perché dovevo prenderne 8 e non mi sembrava il caso è fantastica questa è una delle cose che mi piace di più poi vabbè tra questi dettagli più conosciuti c'è anche la famosa le lightsaber di Vader e di di Vader che era di Luke erano fatte utilizzando il manico della della Graflex questa è una delle più famose questa ormai era un'altra roba il Falcon se non ricordo male le astronavi principalmente tutte le astronavi di Star Wars erano realizzate utilizzando i modellini con gli sprue avete presente quando ho comprato i modellini che sono tutti i layer fatti di sprue e con tutti i pezzi questi una volta vedi una foto non so se me l'hai fatta vedere te in cui c'era l'officina dove costruivano queste robe e alle spalle di questi operatori c'erano muri montagne di modellini di latami di qualsiasi marca che utilizzavano per realizzare tutti i dettaglietti delle varastronavi nel Falcon se non ricordo male dietro c'è un telaio di una Dodge di una Ford non mi ricordo bene incastrato dietro ma guarda venivano utilizzate anche in altri anche in costumi nel senso il casco di Bush la parte sopra Bush sarebbe il personaggio che interpreta Leila il cacciatore di taglie nella parte sopra del casco c'è un frontale di una Ferrari un frontale di una Ferrari ma sai che ho sempre pensato che la parte sopra fosse una console di un videogioco ma è solo un pezzettino qui proprio in punta è un frontalino di una Formula 1 ma che aspettante guardalo guardalo e vedrai che è un frontale di una Formula 1 ma guarda quelli adesso tu hai tirato in ballo il discorso delle varie navicelle costruite in quella maniera c'è il settore delle persone folli per la ricostruzione di queste navicelle che si mettono a ricercare dalle fotografie tutti i vari singoli pezzi delle scatole di montaggio che questo penso è veramente io su questo non riesco a capire come riescono a farlo cioè ci sono dei modellisti che penso che ormai faranno modellini da 30, 40, 50 anni e ne avranno fatti talmente tanti che riescono pure a riconoscere tipo quello è il pistone del set Tamiya del carabinato eh però siamo alla collina però è figo però però c'è anche quello c'è anche quello c'è anche quello torniamo un po' a Vader Vader torniamo a Vader il collare volevo parlare del collare se ci riusciamo mancano una decina di minuti del collare di Vader che è solo nella versione Return of the Jedi è questo Return of the Jedi? no? sì? questo è Return of the Jedi sì questo giusto è Return of the Jedi e questa sono repliche o ci sono questa è una replica è il mio casco è il tuo storico? è il tuo storico? è quello che è stato usato per milioni di fotografie usate abusivamente su internet per fare tatuaggi quando voi cercate Darth Vader su Google il 90% di foto che trovate è Fabrizio con il suo costume giuro non è uno scherzo non è uno scherzo la gente che non lo sa e ha preso queste foto come riferimento per fare tatuaggi e mi ritrovo infinite foto di tatuaggi fatti con le mie foto dove si vedono magari io stavo nello studio del mio amico dove c'erano delle tende e ovviamente il casco di vetere essendo nero lucido rifletteva tutto io so che quei riflessi erano le tende e tipo gente che vedo fatti i tatuaggi con le tende però non lo sanno e le persone dico ma che bei riflessi le luci sembrano naturali io tipo ammazzo hai fatto le tende della casa dell'amico mio e te le porti a vita pure addosso però quello non è il reveal giusto? quello non è il reveal esattamente questo è il casco normale che veniva usato da Dave Prowse per le varie scene il reveal è stato usato solo per la scena finale girata completamente da un'altra parte dove non c'era nessuno dove non sapeva nessuno e il casco era stato solamente diciamo realizzato per essere indossato dall'attore che era steso a terra perché effettivamente per tutto quello che avevano fatto quel casco lì non si poteva indossare cioè era solamente fatto per poi essere elevato in quella maniera e basta perché c'erano infiniti dettagli e agganci che rendevano il casco importabile ma il collare ho visto che mi hai mandato qualche foto del collare anche lì è una cosa che non sapevo per cui ti chiedo anche un po' di cose allora la foto è la numero 11 sì è la numero 11 allora il collare dietro che comunque si vede pure in l'impero colpisce ancora momento in cui sta nella meditation chamber che gli scende il casco e si vede la testa dietro questo collare questo era un collare da tipo quando vai all'ospedale che ti sei ingriccato il collo portopetico portopetico che poi hanno opportunamente modificato come al solito aggiunti vari pezzetti tra cui anche delle protesi dentali che hanno poi magari riaggiunto pure sui pezzi di Boba Fett sulla fronte di Vader sempre del casco Reville e quindi era ecco tutte queste cose erano comunque pezzi presi e riutilizzati per dopo i usi oh però se vuoi ti faccio vedere la chicca quella ultima sì vai assolutamente sì andiamo alla foto numero 31 foto numero 31 parliamo della cintura no parliamo del casco sempre parliamo di questo dei task delle zanne dei task perché un'altra cosa dovete sapere veramente per parlare di queste cose ci vorrebbe una giornata intera non bastano 50 minuti ma ogni pezzo del casco ogni pezzo di qualsiasi costume ha un nome preciso e sono tutti nomi che hanno un significato queste qui si chiamano task ovvero le zanne vai Fabri allora questa è stata una cosa che svelerò diciamo qui la prima volta sì diciamo che è un po' ancora nell'ambito della Vader mafia cioè la Vader mafia sono i componenti quelli estremi che conoscono cose e non vogliono far sapere cose e si può dire che ne faccio parte? ok mi sembrava abbastanza automatico ecco allora questa la diciamo perché tanto non ho mi assumo le responsabilità vai allora questo pezzo qui è esattamente una vitarella che tiene le campanelle della sveglia con le campanelle se andiamo alla foto numero 32 capiamo qual è vedi in alto non è esattamente questo però è di un modello di un altro modello e questo è questo pezzo in questo momento Vader perde un po' di credibilità però vabbè oh poverino sai avevo capito invece che dai tuoi discorsi di una volta avevo capito che erano i pendaglietti i pendaglietti le campanelle all'interno dei campanellini no no sono le vitarelle che vanno lì sopra ok ok meraviglioso io mi immagino questi qua che vanno a lavanare in questo sfascio carrozzi in questo nel patume dovevano trovare della roba prendi sto ferro mettigli questi gli stambi tra l'altro mi immagino che non gliene fregassi niente dai fai in fretta smetti il finish che devi far sto casco e deve essere pronto vernicialo col pennello e vai che tanto sto film è una cagata non ci credo nessuno ma infatti così è stato così è stato tanto che ti ripeto se poi andavi a vedere effettivamente i pezzi di scena se per esempio metti la foto numero 2 che è la cinta di Vader a New Hope che tra l'altro è stata ritrovata in un costume che poi è stato messo all'asta questa è la screen used questa? wow sì diciamo la versione un po' più stunt che era stata penso che questa però sullo schermo non c'è andata mai però diciamo è la quella che è uscita fuori come tra virgolette originale il più fatta bene possibile questo è un costume faceva parte di un set di un costume intero che è andato per tanti soldi in vendita tu conosci qualcuno tu conosci qualcuno che ha qualche pezzo screen used conosci da 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 averlo visto da averlo toccato o o hai preso qualche misura hai avuto modo di studiare qualche pezzo usato durante il film sì sì cioè pezzo non pezzo diretto del film però la prima copia ok per cui pezzo diretto del film Robby lo sai che chi è in possesso di quella roba lì non è una persona che ha voglia di far vedere o di far toccare qua è gente che ha visto dove sono arrivati i prezzi è gente che ha veramente tanti soldi e fa degli investimenti perché non è che te lo compri perché sei un fan qua si parla cioè ho visto che sono arrivati quasi a cifre da milioni per per Robby di Weber quindi più è iconico il personaggio e più i prezzi vanno vanno le stelle beh Vader penso che a livello della storia del cinema possiamo classificare tra il cattivo più cattivo di tutti i tempi e come il personaggio più iconico per quanto riguarda il lato scuro della cattiveria quindi se ti capita di se poi c'è la fai a trovarle un pezzo che sia veramente screen used ma guarda vedendo quanto costano anche i prop di secondo terzo piano anche dei film prequel direi che non ci spero minimamente se le varie prop screen used degli altri film costano cifre abbordabili che possono andare dai 400 ai 1000 ai 1500 ai 5000 Star Wars si quintuplica tutto per cui non vorrei dire una stupidaggine ma mi sembra che un casco di Vader usato per l'impero colpisce ancora diciamo molto probabilmente usato comunque che aveva tutti i dettagli giusti per cui sembrava essere quello è stato abbottuto all'asta per qualcosa sopra al milione quindi ciao buonanotte andiamo guarda ultimamente mi era capitato di vedere un set in vendita che comunque era un qualcosa di un costume promozionale perché fondamentalmente che cosa era successo loro per esempio da quando era stato fatto a New Hope per poi passare all'impero colpisce ancora sono passati tre anni comunque loro hanno fatto una promozione per i film non è che era una promozione online le promozioni erano proprio di creare personaggi costumi che davano a persone che andavano a fare la promozione in giro questi costumi che non erano comunque screen used venivano comunque sempre dagli studios dove avevano fatto lo screen used quindi magari c'era qualcosa di veramente usato e qualcosa che magari veniva aggiunto così però a oggi se ti ritrovi un vestito del genere anche un vestito promozionale di Vader del tempo l'abbiamo l'abbiamo visto in vendita a base d'asta 300.000 400.000 poi magari dopo bisogna vedere se c'hai voglia di spendere quei soldi per un vestito che era un promozionale non era uno screen used però trovare uno screen used penso che sia impossibile specialmente per quanto riguarda la parte di Agnuo penso che ne avranno fatti di caschi mi sembra che ne erano solo due addirittura meno sono più costano Fabri però all'epoca era così eh vabbè ci sta ci sta poi già non ci credevano loro figurati fanne pochi per risparmiare Fabri siamo arrivati alla fine io ti ringrazio infinitamente mi ha fatto piacere grazie a voi per la disponibilità ma ci mancherebbe insomma spero che tu proceda con le tue ricerche voglio scoprire ancora di più per cui appena hai qualche news mandamela grandissimo lo faremo lo faremo grazie ancora Fabri ti saluto saluto tutti mi raccomando rimanete qui per la puntata successiva dove ci sarà di nuovo Giacomo e vi parlerà dei meme a 360 gradi grazie a tutti ci vediamo presto mi raccomando rimanete sempre qui su Ultra Pop Festival ciao Fabri grazie ancora ciao 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 Robi ciao a tutti ciao Fabri grande ciao Antonio grazie 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 grazie